Volete fare l'ospedale a Muraglia? Va bene, fatelo, ma allora Fano deve avere una sanità di qualità, una strada di collegamento nuova per raggiungere velocemente il nuovo nosocomio, una medicina di emergenza urgenza vera e sanità privata convenzionata di eccellenza. Questa, in sintesi, la lista della spesa che il sindaco di Fano ha presentato a Ceriscioli per la tavola della sanità provinciale, in una lettera aperta al governatore delle Marche. La vicenda dell'ospedale nuovo di Muraglia la conoscete tutti, mi vede contrario, però alla fine è una competenza esclusiva della regione e sono scelte di cui si assumono tutta la responsabilità. Per quello che mi riguarda ritengo che quella scelta rafforzi ancora di più la presenza del Santa Croce a Fano, perché io lo reputo il nuovo ospedale di Pesaro. Devo dire che su questo il governatore ha dato delle aperture importanti, quindi l'ospedale Santa Croce deve rimanere come presidio ospedaliero, cominciare da un pronto soccorso vero, con il codice rosso e con una chirurgia di emergenza, una medicina di emergenza alle spalle, ma deve esserci, al di là del discorso sanitario, ma anche per un discorso di collegamento fra le due città, è giunto il momento che ci sia anche un collegamento fra le due città che diventi una variante alla statale 16. I nostri tecnici stanno già riflettendo su quello che può essere un percorso credibile e fattibile che possa congiungere Santa Veneranda con Belgato. Se c'è la scelta di una sanità convenzionata che non mi vede idealmente contrario a Fano, questa deve essere a Fano, ovviamente non deve essere competitiva alla sanità pubblica, ma deve essere integrativa con delle eccellenze. La Giunta è con lei? Sì, io ovviamente ne ho parlato, ne ho parlato con la Giunta, ne ho parlato anche con la maggioranza e questa è una lettera, quindi la lettera lascia anche il tempo che trova. Ovviamente io ho anche detto in Consiglio Comunale che in questo percorso coinvolgo i gruppi consigliari, lo farò, ma voglio anche che il Consiglio Comunale si esprima, perché ovviamente su un tema come questo non è che il Sindaco si alza la mattina e va in modo autonomo, è chiaro che il Sindaco ci mette del suo, ma deve avere alle spalle la condivisione almeno del maggior numero di consiglieri comunali.